Un fine settimana di preghiera organizzato dalle confraternite, cosa si tratta e dove sarà svolto? Per il secondo anno consecutivo le confraternite hanno raccolto l'invito del Santo Padre a celebrare le 24 ore per il Signore. A differenza dell'anno scorso che si erano svolte per intero in città qui alla Spezia, quest'anno abbiamo pensato di renderle itinerante per un maggiore coinvolgimento di tutti i fedeli della nostra diocesi. Infatti l'evento partirà venerdì sera alle ore 18 dall'Erici, quindi dalle 18 alle 20 all'Erici, dalle 20 alle 22 a Ceparana, dalle 22 alle 24 alle Grazie, da mezzanotte alle 2 a Piana Battolla, dalle 2 alle 4 a Levanto, dalle 4 alle 6 a Rio Maggiore, dalle 6 alle 8 a Monte Rosso, dalle 8 alle 10 a Brugnato, dalle 10 alle 12 a San Pietrovara, dalle 12 alle 14 a Braccelli, dalle 14 alle 16 a Mattarana, per concludersi con le ultime due ore qui alla Spezia, nella Cappella dell'Adorazione Eucaristica, dalle 16 alle 18. Un momento di preghiera importante con riflessioni guidate anche, però anche momenti di adorazione individuale al Santissimo Sacramento. La celebrazione si concluderà poi nella chiesa, nella basilica di Santa Maria Assunta alla Spezia. Esatto. Chiediamo poi la partecipazione dei fedeli della città di La Spezia e di tutti quelli della Diocesi a partecipare alla Santa Messa conclusiva celebrata dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Palletti, nella Basilica di Santa Maria. Per agevolare l'afflusso dei fedeli sarà aperto il parcheggione grande della Cattedrale e poi così che sia possibile in pochi minuti arrivare fino alla Chiesa di Santa Maria.